Via l'amministratore unico Antonio Ranucci, dentro un nuovo CDA composto dagli Aquilani Giulio Dionisi e Pietro Rotilio e dall'imprenditore campano Corrado del Giudice a sorpresa. Ranucci per il momento resta congelato in attesa di sapere se potrà rivestire un nuovo ruolo dirigenziale. La squadra a questo punto non dovrebbe essere toccata e a giorni sarà pagato un rimborso mentre nella prima decada di dicembre ne verrà pagato un altro. Approvazione del bilancio, dunque, rinviato. Resta da capire se l'ingresso del giudice possa portare nuovi imprenditori ad affiancare i vecchi. Il trio Fioravanti, Gizzi e Penzi, per ora, potrebbero uscire di scena dopo mesi e mesi di trattative. Resta ancora da capire se i giocatori si fideranno e resteranno all'Aquila Calcio perché, come è noto, il primo dicembre si apriranno le liste di svincolo. In una piazza ormai estremata e delusa, la notizia non ha suscitato particolari entusiasmi. Del resto, in una situazione del genere, tutti vogliono vedere concretizzarsi i fatti.